buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale proseguiamo con il nostro esercizio di freecad ossia la realizzazione di un motore assieme semplice e veloce che faremo in un solo colpo ossia questo l'eccentrico ok è composto da due particolari 1 e 2 e 1 2 e centri 0 1 e centri 0 2 come potete vedere questa zona e il diametro sono né più né meno gli stessi di conseguenza andremo a creare prima l'eccentrico 0 2 e poi ad aggiungere quanto serve dopo averlo rinominato all'eccentrico 0 1 cominciamo quindi creiamo un nuovo file salviamolo nella cartella eccentric stavolta non copiamo scriviamo eccentric 0 1 e andiamo a realizzare quanto ci serve direi tutto piuttosto semplice quindi passiamo in part andiamo a visualizzare l'origine degli assi non vedo non la vedo allora cominciamo col creare un cilindro visualizza origine degli assi eccola qua allora il primo cilindro sarà alto 12 meno 4,8 mettiamo delle belle parentesi vediamo quanto è bravo a fare i conti free card fratto 2 ossia 3 e 60 bravissimo free card sarà diametro 36 quindi raggio 18 da cosa ho fatto ho scritto l'altezza contro il c controvi alto 360 e raggio raggio 18 ed è questo cilindro questo momentaneamente cancelliamolo ok altezza calcolata tra scrivendo 12 meno 4 e 8 raggio 18 diviso 2 quindi 3 e 60 diametro scrivendo qua raggio 18 perfetto ne abbiamo un altro di questi cilindri quindi lo copiamo lo incolliamo e lo spostiamo di quanto lo spostiamo lo solleviamo in z di 3,60 più 4,8 quindi 3,6 più 4,8 8 e 40 ok altro cilindro diametro 33 altezza ma un me ne può fregare di meno perché rimane inserito tra i due diametri di conseguenza quando io 33 fratto 2 andrò ad unire insieme tutto questo della sua posizione poco mi importa vedete gli ho torniamo indietro se troppo veloce nulla col tasto contro gli ho premuti tutti e tre e col tasto eseguo un'unione di varie forme gli ho uniti ora cosa devo fare un bel foro diametro 12 quindi prendo un cilindro lo metto a 6 di diametro altezza passante vado a spostarmi rispetto a x di 6 mm quindi placement posizione x 6 mm ora prendo la mia fusion prendo col tasto contro il mio cilindro eseguo una sottrazione di forma ok giusto perché chi mi segue lo sa a me non piacciono gli spigoli vivi quindi vado col tasto contro a selezionarmi tutti questi spigoli e a fare uno smusso di due decimi perfetto il mio oggetto è un bel color d'oro quindi aspetto facciamolo color oro anche se fricada ha una visione del loro che non piacerebbe a molte delle donne italiane perché fa un po schifo il gioco è fatto ora salviamo poi file salva con nome eccentric 0 2 salva bene cosa faccio ora vado a vedere il mio eccentrico 0 2 che è questo perfetto come vedete abbiamo altri due cilindri uno diametro 22 che è questo no un cilindro e una spianatura attenzione guardate che qua la vedete bene quindi cosa facciamo possiamo andare qua volendo vediamo se può essere più corta se no lo si fa si prende il cilindro 0 3 se te lo ricordi lo copi vieni qua lo incolli lo rendi visibile premendo il tasto barra spaziatrice e lo allunghi a dismisura eccolo qua poi e ne incolli un altro che è questo lo rendi nuovamente visibile e lo porti a altezza 12 poi perché altezza 12 perché 12 che sporge di 24 poi in placement posizione ti alzi in z di 12 mm e gli cambi il raggio a dove ce l'abbiamo 11 ossia 22 di diametro a questo punto prendi il cilindro grande al quale vai a sottrarre il cilindro piccolo vedete che è forato e crei un'unione tra queste due forme col tasto control li selezioni tutti e due e unisci le forme ora però dobbiamo andare a creare questo pianettino quindi creiamo un bel cubotto ce lo maggioriamo un po' in tutte le direzioni no non in questo però ce lo maggioriamo in y poi andiamo in posizione sempre in y ce lo centriamo rispetto alla nostra forma ok ricordatevi che lui ha questo piano a x0 noi abbiamo l'asse decentrato di 6 mm ma sollevato ma lo spacco a 10 mm dal centro di questo nottolino il che vuol dire che io mi devo sollevare in x di 10 mm più i 4 adesso vediamo se ho fatto le cose giuste del decentramento dopodiché mi sposto in z di quanto allora lui è 10 mm di spessore io ne ho 8 quindi vado a parificarmi qua e poi mi sposto di altri 2 a questo punto seleziono la mia forma seleziono il cubotto ed eseguo una bella sottrazione di forma e abbiamo spianato il nostro pezzo ora dobbiamo preoccuparci del filetto M4 quindi facciamo un bel foro da 2 e 5 bisognerebbe guardare la tabella dei prefori oppure addirittura senza neanche star lì troppo sbattersi andiamo in fastness creiamo una vite ISO che lui creerà esattamente in centro gli andiamo a dire che è una M4 e andiamo a rendere visibile con true il filetto poi rispetto Y la ruotiamo di 90 gradi mettiamo Y1 Z0 e qua meno 90 a questo punto bella lì mi manca la posizione della M4 ah no eccola qua 5 mm quindi 24 è decentrata rispetto all'asse di 19 mm in Z la sollevo in X quanto basta che esca sopra e sotto i conti mi tornano prendo la forma contro premuto e la mia vite torno in part ed eseguo una sottrazione di forma ok se volete fare le cose perfette 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 potete fare prima un cilindro ed eseguire un foro cilindrico si va a vedere la tabella dei prefori sarà 2 8 sarà 3 uno smusso da 1 per 45 e poi andare a fare quello che abbiamo fatto noi così la zona dello smusso dell'invito verrà più corretta insomma dipende da quanto bene volete fare il lavoro si prende la forma aspetto normale oro chiudi e il gioco è fatto non è terminato il lavoro perché qua c'è un smusso c'è un raggio 2 per cui andiamo a impostare questi smussi a 0 2 e questo smusso che come vedete non riusciamo a selezionare quando non si riesce a selezionare lo smusso il segreto è tasto destro stile disegni reticolo eccolo qua lo smusso lo si piglia si va nell'utile di raggi la si porta a 2 se sparisce tutto vuol dire che non digerisce la dimensione dello smusso non è sparito nulla quindi tasto destro stile disegno faccia piena ecco vedete la cosa brutta è che non mi ha fatto lo smusso dello stesso colore non è un problema aspetto oro e il gioco è fatto ok quando fate dei prodotti da unire in un assieme talvolta nell'importarli all'interno dell'assieme si possono avere dei problemi se si hanno dei problemi perché manca una faccia si va nel file sorgente ossia questo e lo si esporta si seleziona l'oggetto che si vuole esportare perché si può esportare un oggetto alla volta o più oggetti file esporta e lo si esporta in un file step volendo quindi h02 ora andiamo a crearci l'assieme dell'eccentrico quindi chiudiamo salviamo fortunatamente ce lo dice creiamo un nuovo file e salviamo assieme eccentrico anche qua visualizziamo l'origine degli assi e possiamo importare o unire il progetto quindi se uniamo il progetto vedremo solo i file nativi freecad se invece facciamo importa andremo a vedere adesso me lo vede come un file di testo però perché io ho fatto dei casino al mio computer solo i file step vedete eccolo qua file step andiamo a vedere il nostro assieme il nostro assieme ci dice che i due pezzi sono montati uno accanto all'altro con un'inclinazione di 30 gradi rispetto però a questo punto bene questo punto è decentrato di 6 mm per cui il nostro eccentrico andrà spostato in x di 6 mm dopo di che dovremo andare file unisci progetto eccentrico 0.1 eccolo qua l'eccentrico 0.1 va prima di tutto ribaltato di 180 gradi quindi angolo 180 dopo di che va abbassato in x di 6 mm e ruotato allora voglio vederlo allo stesso modo perfetto ruotato di 30 gradi quindi salviamo questa operazione e andiamo a dirgli in placement applica le modifiche in maniera incrementale e ruotano rispetto al punto x perfetto dovrebbe andare bene così quindi rispetto all'asse z come vedete ci siamo applica ok ovviamente era meglio farlo prima lo facciamo ora perché siamo ancora a tempo a farlo va spostato di 12 mm perfetto direi che è il nostro prodotto eccolo qua dovremmo essere tutti d'accordo con questo direi che sono gemelli ok il gioco è fatto spero mi avate seguito direi che questo come tutorial era piuttosto semplice non uniamo i due oggetti perché fanno parte di un insieme salviamo il nostro assieme e ci prepariamo ad andare a fare la parte più corpulenta del nostro progetto grazie per essere stati con me e vi aspetto alla prossima ciao ciao grazie grazie a tutti